ciao ti propongo un corso di basso elettrico dedicato al funk modulo 1 strutture sonore di base modulo 2 storia e repertorio del basso funk modulo 3 sled con il primo modulo creeremo un campo di allenamento dove attraverso vari patterns conosceremo e praticheremo le strutture sonore fondamentali intervalli scale gli accordi i giri armonici per poi essere pronti ad eseguire linee di basso temi ed improvvisazioni la finalità è quella di raggiungere e o consolidare una preparazione teorica e tecnica che ci permette di affrontare il materiale funk nel migliore dei modi vi faccio qualche esempio studieremo gli intervalli di ottava le scale pentatoniche i modi come il dorico ma passiamo al secondo modulo il più voluminoso storia e repertorio del basso funk è il cuore del corso in questo modo andremo a studiare tutti i più grandi classici del genere l'approccio sarà quello storico cronologico che ci permetterà di seguire l'evoluzione del funk e nel dettaglio gli stili delle tecniche del basso elettrico Gli spagnolo Gli spagnolo Gli spagnolo Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.